Per Forbes Leader oggi incontriamo un leader di una cosiddetta multinazionale tascabile. Incontriamo infatti con noi Paolo Dellacra, amministratore delegato di Industria De Nora. Perché diciamo multinazionale tascabile? Innanzitutto da dove parte la storia di Industria De Nora che dovete sapere è un'azienda con moltissime attività all'attivo e una storia altrettanto importante. Assolutamente. L'azienda nasce nel 1923 dalle idee, le visioni di un eccellente ingegnere, ingegnere De Nora che partendo immediatamente nei suoi processi di ricerca inventò la mucchina e la brevettò, famoso prodotto oggi noto sul mercato, anche se non fa più parte del nostro gruppo perché lui voleva concentrarsi sulle tecnologie. Ha continuato a sviluppare tecnologie, di mano in mano col passare del tempo abbiamo sviluppato tecnologie e diventati leader in determinate applicazioni industriali. Le nostre tecnologie servono una serie di svariate applicazioni industriali e noi forniamo le componenti critiche che vanno all'interno dei processi produttivi dei nostri clienti. Quindi si partì nel 1923, nei primi anni del 1900 dalla produzione di cloro e soda caustica che era la classica produzione di chimica di base, il cloro e la soda vanno a loro volta all'interno di centinaia, migliaia di processi industriali per fare prodotti finiti, quale il PVC, oggi usato in mille applicazioni, la disinfezione dell'acqua e così via. Mano a mano capitalizzando su questa grande know-how e grande leadership tecnologica, l'azienda è entrata in varie applicazioni industriali differenti, molto varie una dall'altra, l'industria elettronica, l'industria della protezione catodica, ovvero della protezione delle infrastrutture dalla corrosione alle superfici galvaniche, ovvero aumenti galvanici per superfici, cromature, al mondo del trattamento delle acque, al mondo minerario, al mondo del sbiancamento della cellulosa per l'industria cartaria, per cui fondamentalmente è diventata progressivamente una leader che si è espansa e che ha avuto il coraggio di, perché è multinazionale e tascabile, perché comunque è un'azienda partita di piccole dimensioni, con grande autorevolezza tecnologica, ha avuto la forza, la capacità, la visione di entrare in nuovi mercati in tempi pionieristici, fondando, costituendo fabbriche e società in giro per il mondo, in paesi ai tempi ancora sentiti molto lontani, come il Brasile, come la Cina, il Giappone, l'India e mano a mano è cresciuta e ha continuato a conquistarsi posizioni di leadership in giro per il mondo fino ad oggi. Chiaramente la storia è lunga 95 anni, 95 anni ci sono state tante tappe, tra cui anche un percorso di acquisizioni di aziende che ci hanno dato un ulteriore boost allo sviluppo sia dimensionale che del nostro portafoglio tecnologico. Certo, quindi potremmo dire che Denora è un'azienda che lavora per tante parti della nostra vita quotidiana, di tantissime persone, ha avuto una storia così lunga, ricca di tappe, una di queste è anche il passaggio da azienda familiare, perché l'ha ricordato lei, nasce come azienda di famiglia, quindi da azienda familiare ad azienda manageriale potremmo dire. Anche questo è un passaggio molto delicato per molte aziende italiane, per Denora invece si tratta di un caso di successo. Un caso di grande successo, devo dire grazie a una famiglia visionaria, ormai terza generazione di azionisti, che hanno deciso a un certo punto di lasciare spazio al management, quindi ai propri dirigenti, il team di gestione e di controllo del gruppo, per poterla fare ulteriormente crescere. Loro oggi sono azionisti presenti, molto attenti, di maggioranza, che danno messaggi ai propri dipendenti in termini di continuità, di visione, di grande determinazione alla sostenibilità, alla continua ricerca e sviluppo, perché la ricerca e sviluppo è stato il nostro motore, la nostra spinta propulsiva per 95 anni, ma allo stesso tempo hanno dato una grande fiducia, sottoscritto, a un management team che ha portato l'azienda negli ultimi 10 anni, da 140 milioni di fatturato nel 2009 a quasi 500 milioni oggi. Quindi potremmo naturalmente dire una bella storia italiana di successo, di lavoro, perché 1.600 dipendenti, di cui la larghissima parte in Italia, è sicuramente una buona notizia, diciamo il tipo di storia che piace affrontare a Forbes Leader. Ancora un grazie a Paolo Dellacà e al prossimo appuntamento.